Indigenti di Ponte Chiasso. Va bene. Tu sei di Ponte Chiasso, la mia indigente. Meno male ti ho dato un lavoro in giunta, perché sennò cosa avresti mai fatto nella tua vita, visto che sei di Ponte Chiasso? Ma erano indigenti anche i tuoi genitori, tutti, poverini. Non dialoghiamo. No, stavo dicendo poveri Ponte Chiasso, le riserve di Ponte Chiasso, dove ci sono tutti gli indigenti. Va bene, è chiaro, chiaro, chiaro. Si rende conto di cosa afferma? Si rende conto di cosa afferma e di che pazienza? Poveri quelli di Ponte Chiasso. Montelimpino, Beverly Hills. A Sagnino spaccano, sono tutti in giro con i Wrangler giganteschi con le sedici ruote motrici. Ponte Chiasso, indigenti. Dire, queste cose è proprio. Non ridere, dire queste cose è proprio. Dire queste cose. Non capirle è ancora più grave. Quindi, stiamo parlando di quegli indigenti di Ponte Chiasso. chissà che... com'è la vita da indigente? No, basta un cavolo, basta, ma basta un cavolo, basta. Per favore, conteniamoci. Dai, conteniamoci davvero. Di conseguenza, allora... Grazie. Grazie.